Quando cammino per le strade della mia città, mi involto e guardo i ragazzi che parlano. Parlano di sport, di musica, di ragazze, ma non c'è mai nessuno che parli della donazione di sangue. E se provo a introdurre l'argomento, si mettono tutti a ridere. Non essere così anche tu. La donazione di sangue è importante. Parliamone.